Dio, sembrano i servizi segreti. 20 milioni, vede ecco, già mi fa incazzare. Prima di tutto, dall'inizio del caso, noi abbiamo più di 400 querelanti. E diciamoci la verità, sappiamo tutti che ce ne sono altri. Non saranno persone sofisticate, ma sanno fare una divisione. E 20 milioni di dollari non è un cazzo se si divide tra tutti. Secondo punto. Queste persone non sognano nemmeno di arricchirsi. Sognano di vedere i loro figli nuotare in una piscina, senza preoccuparsi che subiscano un'isterectomia all'età di 20 anni, come Rosa Diaz, una nostra cliente. O che gli si polverizzi la spina dorsale, come a Steinblum, un altro nostro cliente. Quindi, prima di portarci un'altra offerta pidocchiosa di merda, voglio che rifletta bene su quanto vale la sua spina dorsale, avvocato Wolk. O su quanto si aspetti che uno paghi per il suo utero, avvocato Sanchez. Poi, prendete la calcolatrice e moltiplicate quel numero per 100. Qualsiasi cifra al di sotto di quella è una perdita di tempo. Abbiamo fatto portare quell'acqua apposta per voi, signori. Viene da un puzzo di incli. Viene da unibility. Viene da un caregiver.